Chiude la serie Lempoli vincente sul Cesena sul neutro di Modena con il gol di Urbano, splendida chiusura per i Toscani che finiscono il campionato ad un punto dalla terza insieme alla Tristina. Finisce proprio così il campionato di Serie B? Non lo si può certamente affermare. De Biase è a lavoro per darci risposte certe.